La decisione della Lega, che ha presentato la mozione di sfiducia, ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione. Oltre che le dichiarazioni, i comportamenti chiari, univoci, posti in essere in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo. Ovviamente ascolterò con estrema attenzione tutti gli interventi che seguiranno, ma voglio preannunciare che intendo completare questo passaggio istituzionale nel modo più lineare e conseguente. Mi recherò all'esito, alla fine del dibattito parlamentare, dal Presidente della Repubblica per comunicargli ufficialmente l'interruzione di questa esperienza di governo e rassegnare nelle sue mani le mie dimissioni da Presidente del Consiglio.